Bella ragazzi, sono Ben Wolfers e sono tornate le mini recensioni. Oggi vi parlo di Paco, Car Chase Simulator. Che cos'è Paco? Beh, Paco è un simulatore di inseguimenti automobilistici arcade. Senza uno straccio di storia, senza sapere il perché o il per come, ci ritroveremo a volante di un'automobile inseguiti dalla polizia in un quartiere privo di uscite. L'automobile che stiamo guidando ha un'accelerazione costante. Il giocatore potrà solamente accelerare ulteriormente oppure frenare. Lo scopo del gioco è semplicemente sopravvivere il più a lungo possibile. Durante la nostra fuga avremo la possibilità di raccogliere dei power up che troveremo sotto forma di cassa generati randomicamente lungo il terreno di gioco. La scelta di raccoglierli è però al nostro rischio e pericolo. Perché le casse conterranno sì principalmente dei bonus, ma potremo trovarvi anche dei malus e vi posso assicurare che più di una volta sono morto a causa del contenuto della cassa appena raccolta e non per un mio errore. Ad esempio, durante una curva particolarmente stretta, ho raccolto una cassa che conteneva un ulteriore boost di accelerazione che mi ha mandato completamente fuori strada. Graficamente il gioco, devo dire che ha uno stile molto particolare, sicuramente riconoscibile, ma devo anche dire che è altrettanto scarno. Il comparto sonoro non è nulla di memorabile, ma fortunatamente il cuore del gioco, ossia i comandi, è realizzato con molta cura. Infatti i comandi rispondono bene e non avrete mai la sensazione di perdere a causa della cattiva risposta di un comando dato. Una nota di merito va alla telecamera scelta, che ricorda molto la classica inquadratura televisiva da ricottro di un notiziario. Telecamera che tra l'altro è controllabile con la levetta destra del vostro pad. Ottima scelta, bella davvero. Come potete vedere, è facile farsi prendere dal gioco e quindi fare una partita dietro l'altra, una sorta di piccola droga. Purtroppo però, devo dire che il titolo non gode di una longevità altissima. Sono presenti solo dieci livelli. Ogni livello ha un obiettivo minimo di tempo di sopravvivenza e quel raggiungimento vi sboccherà un ulteriore automobile da guidare. Io vi posso garantire che l'automobile diversa cambia di parecchio la gestione del mezzo durante la fuga. Ma una volta che avete collezionato le dieci automobili e quindi completato i dieci obiettivi dei dieci livelli, non vi rimane molto altro da fare. Per fortuna, il gioco ci viene in soccorso perché abbiamo la possibilità di giocare Paco in multiplayer locale con lo split screen e un massimo di quattro amici. Potremmo sfidarci a far gare di sopravvivenza di tre match in cui vince l'ultimo sopravvissuto rimasto. Divertente, ma sinceramente avrei preferito avere la possibilità di giocare Paco in un multiplayer online. Su questo gioco è rimasto poco altro da dire. Se volete provarne l'essenza, vi farà piacere sapere che stiamo parlando del classico gioco mobile che diciamo che ha fatto carriera, passando appunto dal mercato mobile a quello PC con migliorie varie. Quindi, se vi è incuriosito, potete scaricarlo in maniera gratuita anche da subito checcandolo sul vostro Play Store. Paco è stato sviluppato dalla Tree Man Games e costa 7,99€ su Steam. Io vi consiglio di farci un pinzerino a maggior ragione se dovete trovarlo in sconto. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se così è lasciate un like, commentate, condividete. Grazie e alla prossima. Ciao! Ciao!